È noto soprattutto per aver prestato voce a Brendan Fraser nella maggior parte dei suoi film, oltre che ai personaggi di Garfield nel primo doppiaggio dell'omonima serie Joel Condor in La Battaglia dei Pianeti. Tra gli altri attori doppiati figurano a Grant, Tim McCurry, Willem Dafoe, Russell Crowe e a Jackman. Fabrizio Pucci ha doppiato anche Christopher Eccleston nella serie TV Doctor Who e a Chris Potter e Robert Geinque e Russ Folk. Nel 2008 ha sostituito Claudio Capone. Dopo la sua prematura scomparsa. Nel doppiaggio di Ron Moss nella sopopera Beautiful. Ma a sua volta dal 2014 dopo il recast del personaggio viene sostituito da Massimo Rossi. Doppia. Tra il 2008 ed il 2009. Jeff Goldblum. Interpretante il ruolo del detective Zachary Nichols. Nell'ottava e nona stagione di Law and Order. Criminal Intent nel 2009 ha sostituito Luca Ward nel doppiaggio di Alexander Mahon personaggio. Della serie televisiva Prison Break. Interpretato da William Fichtner. Ed è stato impegnato nel doppiaggio di Miguel Prado. Personaggio della serie televisiva Dexter. Interpretato da Jimmy Smith. Sempre nel 2009 ha doppiato nel film Up Interpretando Beta. Nel 2010. Dopo a Beautiful Mind. Torna a doppiare Russell Crowe nel film Robin Hood di Ridley Scott. Causa la non disponibilità all'epoca di Luca Ward. Nel 2014 ritorna a doppiare lo stesso attore per il film Noa di Darren Aronofsky. Nel 2011 ha vinto il premio Leggio d'Oro Voce Telefilm. Nel 2012 doppia il personaggio di William Miles. Padre del protagonista Desmond Miles della popolare saga di videogiochi Assassin's Creed. Sempre nello stesso anno doppia Richard Armitage che interpreta Thorin Scudo di Quercia nel film Lo. Hobbit. Un viaggio inaspettato e gli anni successivi nei suoi seguiti Lo Hobbit. La desolazione. Dismagello Hobbit. La battaglia delle cinque armate.